Allora, buongiorno, anche se avevo già iniziato a parlare, la lezione ufficialmente inizia ora. Allora, volevo parlarvi di un concetto importante che è la cosiddetta verosimilianza profilo, che è l'unico argomento nuovo in effetti di teoria dell'inferenza che io tratto quando parlo dei modelli lineari. Noi abbiamo potuto stimare i parametri senza ricorrere a questo concetto, ma adesso che abbiamo visto quali sono le forme fondamentali degli stimatori, che ricordano molto gli stimatori di sigma quadro e di mi già visti nella parte dell'inferenza semplice, dell'inferenza di base, diciamo, le forme sono le stesse. Per stimare sigma quadro fate sommatore del y con i meno m e per stimare m fate somma delle x su n. Voi potreste vedere il caso della stima di due parametri di una normale come un caso particolarissimo di modello lineare, ovvero come se fosse un modello lineare in cui avete una matrice di n per un regressore solo, tutto costante uguale a uno. Se volete, fin qui è solo un artificio matematico perché, diciamo, è chiaro che è molto più semplice considerarlo direttamente come un solo parametro. Però per farvi vedere e farvi notare che i passaggi che avete fatto per ricavare lo stimatore media aritmetica per la normale e che abbiamo fatto adesso per ricavare lo stimatore dei mini ladrati sono del tutto analoghi. Adesso l'analogia sarà ancora maggiore. Il concetto della valorizzazione di ansia profilo lo affronto nella situazione semplice di un campione da una normale con sigma quadro e con due parametri sigma quadro e mi. Per il semplice fatto che essendo due parametri e avendo una funzione di due parametri sono in uno spazio in R3 e quindi posso farvi vedere una rappresentazione grafica e accorciamo molto i tempi dando al vostro intuito la possibilità poi di espanderci a K parametri. Ora vediamo come. Allora il problema della verosimiglianza profilo nasce esclusivamente in presenza di più parametri. ossia quando io, aspetta che vi carico le cose e allora, ok, amplifichiamo questa velocità allora prima di andare alla ok questo vi fa capire perché io sto lavorando sul caso semplice perché così possiamo anche vedere le cose e vi faccio vedere alcune cose poi nelle slide c'è una pura rappresentazione in 3D quindi è un po' antica rende pure, però questa ce la possiamo muovere, manipolare, eccetera allora, quando si pone il problema della costruzione della verosimiglianza profilo? Per quello che abbiamo fatto finora, che abbiamo visto sul modello lineare la nostra attenzione è incentrata sulla stima, sull'inferenza diciamo relativa ai parametri beta ai parametri beta tutti insieme uno da solo, due, tre ora vediamo come si possono affrontare questi problemi fra oggi e domani, diciamo, riusciremo a vedere qualcosina ma il punto fondamentale è che i nostri parametri di interesse sono i beta ma ce n'è un altro parametro che è meno interessante ma è altrettanto importante che è sigma quadro in questo caso si parla di ipotesi composte normalmente perché c'è un altro parametro che non è direttamente oggetto delle nostre prove di ipotesi quando dobbiamo fare una prova di ipotesi ma che comunque influenza la nostra inferenza per esempio nel caso della verifica di ipotesi o della costruzione di intervalli di confidenza si fa il ricorso molto spesso delle cosiddette statistiche pivotali non so se avete studiato questo termine di recente ma al di là di questo nasce il problema e ci sono diversi modi per affrontarlo di come eliminare l'influenza del parametro sigma quadro quando io devo fare inferenza in realtà sui beta è chiaro che la conoscenza di sigma quadro è importante io dovrò in qualche modo stimarlo se io devo fare inferenza su un singolo valore di beta nella regressione lineare semplice io so che beta ha una distribuzione con beta 1 cappelletto ha una distribuzione che è centrata su beta 1 è che ha una varianza uguale a sigma quadro per, perdono, sigma quadro diviso somma degli x scarti al quadrato e quindi evidentemente somma degli x scarti al quadrato la conosco ma sigma quadro non lo conosco quindi quantomeno avrò bisogno di stimare sigma quadro per poter ottenere una per poter costruire dei test su beta su beta 1 cappelletto ed eventualmente degli intervalli di confidenza sul parametro ci sono delle tecniche più generali che in effetti a noi servono per i modelli lineari e ci servono perché ci consentono in pochi passi di ottenere una teoria che ci consente di lavorare non solo sulla stima dei parametri ma anche sulla costruzione di intervalli o di regioni di confidenza ma anche alla costruzione di test che sono i tre grandi argomenti diciamo dell'inferenza poi c'è un altro argomento che riguarda il confronto fra modelli ne parleremo nel finale adesso andiamo diciamo su una situazione standard supponiamo, torniamo un attimo indietro alla equazione risolvente dei modelli lineari ci arriviamo fra un pochino vediamo un poco che cos'è la verosimilianza profilo a cosa ci serve allora noi abbiamo una situazione nella quale ho la verosimilianza rispetto a sigma quadro e mi allora se io devo stimare puntualmente i parametri poco male qua c'è un massimo derivo rispetto a sigma quadro derivo rispetto a mi o delle equazioni classiche e risolvo tuttavia mi nasce una nasce una possibilità di dire guarda ma facciamo una cosa siccome mi lo so già che in realtà dipende poco da sigma quadro o nulla ma la sua distribuzione dipende o meglio la distribuzione dello stimatore di mi dipenderà da sigma quadro ma al di là di questo la verosimilianza dipende sia da sigma quadro che da me allora dice guarda fa una cosa non la riscrivo la verosimilianza ma ricordate che dipende da quello questa tra l'altro che ho disegnato qui è la verosimilianza non è la log verosimilianza mi pare guarda dice ma perché non fai una cosa tu fai finta di conoscere me e quindi risolvi questa equazione lo vedete questa qui evidenziata allora in sostanza cosa succede che io ho fissato un certo valore di mi vedete questa verde è la verosimilianza campionaria di sigma quadro per un fissato valore di mi quindi fissiamo mi a meno 0,51 con questo particolare campione la verosimilianza è questa e il massimo lo ottengo in questo punto qui il mouse si vede giusto? allora vedete che questa è quella che sto massimizzando ovviamente io ho il vantaggio che è uno dei motivi fondativi perché la situazione normale è che tutte le soluzioni sono esplicite se non fossero esplicite diciamo che sarebbe tutto più in salita ma diciamo o esplicitamente o numericamente io fissato mi posso risolvere questa questa equazione quindi io ho un una questo sigma quadro cappelletto di mi che cos'è? è la funzione esplicita o implicita che sia esplicitabile o meno che sia che per ogni valore di mi mi assegna lo stimatore di massa e la simiglianza allora dice ma guarda allora fai una cosa dice per ogni valore di mi tu prenditi questo valore massimo di sigma quadro e lo sostituisci nella verosimiglianza in sostanza guarda dice fai una cosa risolvi quell'equazione ognuno di questi punti rossi è stato costruito fissando mi e massimizzando rispetto a sigma quadro ok questa in verde invece questa in blu scusate qua sotto è invece la curva proprio che esprime la dipendenza di sigma quadro da mi è chiaro che questo grafico lo potevo fare solo se avevo un solo mi se già c'ho pure beta 0 beta 1 ci siamo persi di caso però il concetto eventualmente sempre lo stesso è il concetto è che è fissato mi oppure fissato beta nei modelli lineari beta beta vettore io posso ottenere la stima di massa e la simiglianza di sigma quadro dato dato beta o dato mi in questo caso cosa vuol dire che io la posso sostituire qua c'ho questa dorsale qui che ho questo colmo che c'ho rosso che è ovviamente cosa fa quando questo colmo arriva al punto in cui mi è proprio lo stimatore di massa e rosimiglianza per quel campione è chiaro che quel punto mi dà lo stimatore congiunto di massa e rosimiglianza di sigma quadro e di mi ok ma c'è un vantaggio il vantaggio qual è il vantaggio è che questo mi consente in qualche modo cioè non in qualche modo in questo modo ossia colprendere questo massimo perché non è l'unico modo esistente ma è l'unico che vediamo noi in questo corso mi consente di eliminare l'influenza di sigma come? ma semplicemente perché io analiticamente cosa faccio? dove nella verosimiglianza c'è sigma ci metto sigma cappelletto di mi o di beta a quel punto quella lì diventa una funzione solo di beta complicata quanto volete ovviamente siccome la usiamo il fatto che la usiamo da decine di anni da mezzo secolo è perché in realtà vengono espressioni da più di mezzo secolo scusate da quasi uno in realtà è perché vengono espressioni molto più semplici e agevoli perché dover fare questo ragionamento su forme più complesse effettivamente la massimizzazione andrebbe fatta numericamente ma è argomento che non ci riguarda qualcuno dei miei colleghi più giovani magari in qualche altra cosa in qualche altro corso in qualche altra diavoleria se lo ve lo farà vedere che vantaggio mi dà questo mi dà il vantaggio che io ora posso proiettare questo profilo che vedete era una curva in uno spazio in 3D ma volendo lì sigma quadro non c'è e allora lo proietto dove? lo proietto sul piano vedete su questo piano verticale per questo si chiama profilo esattamente per la cosa che vi sto rappresentando adesso in cui vedete che io ho in ordina vedetelo questo come un grafico in due in due dimensioni in ascissa cos'ho in ascissa c'ho la media la media mi il parametro che è oggetto dell'inferenza in ordinata qui che cos'ho in ordinata c'ho la velocimiglianza tutto qui per ora per ora vedete questa è la proiezione qua ho messo in ascissa direttamente beta non per un refuso ma proprio per sottolineare il fatto che là in ascissa c'è beta è chiaro beta sarà più componenti poi nel caso a un parametro quel beta si chiamerà ma in generale io posso fare questa cosa nei modelli nei modelli lineari perché lo dico questo lo dico perché al di là delle proprietà che fra poco esploriamo sulla sulla sullo stimatore dei minimi guardati sulle sue proprietà su questa e quest'altra tutta una serie di diavolerie per sottolineare il fatto che noi già abbiamo lo strumento fondamentale dall'analisi della velocità che abbiamo già fatto abbiamo lo strumento fondamentale che ci consente di fare tutti i tipi di inferenza intervalli di ragione di confidenza ed anche test su particolari valori di beta per ora diciamo su valori di beta globali e complessivi vi do un'idea della cosa torniamo un attimo qui faccio una nuova pagina faccio una nuova pagina ammesso che io mi ricordi la forma esatta della velocimiglianza che noi avevamo prima noi avevamo che la nostra verosimiglianza di sigma quadro beta perdono scusate che qua vediamo qui siamo con professore noi non vediamo quello che scriva avete ragione per ora per ora vi sembrerà che ho parlato così tanto perché questo si può fare è una comodità analitica chi se ne frega tanto sempre mini quadrate arriva però vi voglio fare vedere una cosa vi ricordo che il nostro l di beta sigma quadro a che cosa era uguale era uguale a qua dovete controllarmi era uguale a sigma quadro elevato a meno n mezzi per exp di che cosa di meno un mezzo r di beta con r di beta vi ricordo che ho indicato la somma dei quadrati dei discarti rispetto ai valori stimati con un certo valore beta ora beta per ora è beta il parametro vero ma r di beta è una funzione quindi al posto di beta io potrò mettere uno stimatore successivamente ma non è il momento di farlo allora meno uno su r di beta e mi pare che c'era un sigma quadro a qualche parte c'era sigma quadro qua ok ci siamo fin qui ora non c'è trucco non c'è inganno cosa facciamo al posto di sigma quadro e noi cosa abbiamo scoperto abbiamo scoperto soltanto derivando rispetto a sigma quadro che è lo stimatore di massimo similanza di sigma quadro in funzione di beta a che cosa è uguale è uguale a r di beta su n ok ci siamo a questo punto a questo punto cosa faccio per costruire questa verosimilianza profilo quella che vi ho fatto vedere poco fa graficamente nulla di più facile sostituisco questa quantità nella verosimilianza è come dire che ho levato una variabile quindi mi sto muovendo sul colmo di questa verosimilianza è un colmo che cos'è questo colmo è il punto che comunque rispetto a sigma quadro è massimo fissato quel valore di mi in questo caso fissato questo valore di beta per cui che faccio prendo questo r di beta n e ce lo schiaffo là dentro nell'l di beta per cui ora costruisco questo l di beta allora l si scrive come se scrivesse doppio l di beta sigma quadro se vi ricordate la formula precedente cosa devo fare al posto di sigma quadro ci devo mettere sigma quadro cappelletto perdono qua era sigma quadro scusate c'è qualche posto in cui non ci ho messo sigma quadro elevato a meno n mezzi ok e poi qui exp di meno un mezzo r di beta su sigma quadro di beta ok ora al posto di sigma quadro di beta ci sostituisco l'espressione di poco fa che era r di beta su n e quindi cosa ottengo ottengo la cosiddetta verosimiglianza profilo rispetto a beta ottengo qua r di beta su n elevato a meno n mezzi ok perché questo sigma quadro ho messo qui e qua cosa ottengo exp di che cosa di meno un mezzo r di beta su r di beta su n perché questo sigma quadro di beta era r di beta su n quindi qua posso mettere n lo metto al numeratore e mi viene exp di meno n mezzi perché questo e questo se ne vanno questo mi rende chiaro una cosa uguale alla fine exp di meno n mezzi che è un termine che volendo potrò anche elevare perché tanto n è costante e quindi alla fine io che cosa ho molto banalmente io ho la mia verosimiglianza profilo che cosa è r di beta beta vettore su n elevato a meno n mezzi che rende chiara due cose che per fare inferenza su beta o meglio per la stima intanto la prima cosa che salta all'occhio è che per massimizzare la verosimiglianza profilo che mi massimizza anche la verosimiglianza generale quando poi io aggiungo la stima di sigma quadro devo minimizzare r di beta perché qua ho r di beta su n elevato a meno n mezzi funziona è monotona di r di beta mi chiarisce inoltre che r di beta è la quantità fondamentale per la mia inferenza primo perché ci stimo sigma quadro secondo perché è l'unico elemento che dipende dai dati che si trova alla verosimiglianza profilo quindi r di beta è l'unica quantità realmente interessante questo mi permette anche un'altra cosa voi avete studiato il test del rapporto della verosimiglianza voi neoassunti diciamo così voi neoassunti avete fatto il test del rapporto della verosimiglianza ma l'avete fatto per un parametro solo che io sappia sì professore benissimo questo è un modo per poterlo estendere al caso di più parametri perché il parametro che non sarà oggetto dell'inferenza è stato eliminato semplicemente facendo la verosimiglianza profilo come costruiremo noi poi un test ma noi semplicemente lo costruiremo mettendo se questa io l'ho chiamata lp di beta semplicemente io metterò a confronto lp di beta 0 su lp i beta cappelletto a che cosa corrisponde questo rapporto di verosimiglianza profilo intanto se io come verosimiglianza mi piglio la verosimiglianza profilo questo è un rapporto di un un TRB un test del rapporto di verosimiglianza poi la distribuzione campionale poi se ne discute però non ci interessa l'importante nei test è distinguere sempre come si costruisce il test da poi come si distribuisce perché come si distribuisce poi magari potrebbe essere una cosa complicata io potrei decidere di farlo per simulazione per metodi numerici e altro ovviamente in tutta la teoria che stiamo studiando adesso le cose funzionano belle pulite e sistemate pulite e sistemate nel senso che si arriva a distribuzioni note e questa è una quantità test perché comunque io ho massimizzato rispetto a sigma quadro è come se io avessi fatto una cosa un po' diversa è come se il rapporto di verosimiglianza l'avessi costruito in un modo poco poco diverso da come l'avete studiato meglio esteso al caso a più parametri perché io qua cosa ho fatto al numeratore cosa ho messo ho messo il massimo della verosimiglianza di sigma quadro beta zero e qua ho massimizzato rispetto a sigma quadro ma sotto ho massimizzato rispetto sia a sigma quadro che a beta sostanzialmente ok ld quindi è come dire che io ho fatto con una simbologia che immagino sia molto vicina a quella che avete usato qua ho messo il max di l max di l beta sotto h con zero ok e qua sempre ho messo il max di l sigma quadro beta beta sotto h con uno quindi in pratica questo rapporto delle verosimiglianze profilo non rispecchia altro che il rapporto delle verosimiglianze che però sono state massimizzate rispetto a tutto quello che è vincolato dall'ipotesi nulla quali ipotesi nulla la prima ipotesi nulla quale sarà che beta è uguale a un certo valore beta zero ma l'ipotesi nulla sicuramente non dirà niente attorno a sigma quadro quindi c'è a posto di sigma quadro che ci metti va bene mettiti nel caso migliore cioè per sigma quadro ci metti il meglio che puoi fare sotto l'ipotesi h con zero e al denominatore ci metti il meglio che puoi fare sotto h con uno è chiaro che sotto h con pardon mi sono impicicato è chiaro che sotto h con uno io ho più gradi di libertà perché posso giostrare sia su sigma quadro che è su beta quindi il valore al denominatore è più alto quando questa quantità è alta alta cioè vicina a uno io non ho motivi di contrari ad h con zero quando questa quantità è bassa sotto un certo livello di cui poi si discuterà posso rifiutare h con h con io questo lo faccio volutamente lo faccio all'inizio per far vedere che l'inferenza nei modelli lineari quando si usa un approccio basato esclusivamente sulla verosimilianza non c'è bisogno di fare teorie esterne cioè tutto è qua dentro è semplicemente con questa banalissima operazione che abbiamo fatto ci evitiamo anche di dovere verificare diciamo ma poi quello è un minimo è un massimo no non ti interessa perché come stai minimizzando i quadrati la somma dei quadrati degli scarti automaticamente stai massimizzando la valutinianza che in effetti se invece procediamo per derivate dovrei fare poi lessiano totale anche rispetto a sigma quadro misto eccetera si complica un po' con la vicenda però ripeto non è solo il fatto che abbiamo avevato una variabile perché in fondo voi potreste dire ma ne abbiamo k tra k e kp1 chi se ne frega il fatto è che abbiamo concentrato la nostra attenzione su quello che è essenziale per la nostra inferenza su beta vi aggiungo anche e per i curiosoni ci sono le mie dispense sono metà dispense e metà slide sono sono le slide un po' abbondanti delle dispense un po' strettine non sono proprio un libro qua e là mi sono dilungato ma sono un corollario c'è qualche testo a margine delle formula ma è diciamo più che altro un promemoria un formulario più che altro quindi con lo studio sui testi è sempre ben visto ok in quelle slide mie c'è anche il modo per minimizzare r di beta rispetto a beta senza fare uso di delegate che è molto bello molto elegante è dovuto a Rao ma non non ve ne parlo e se no facciamo l'intero corso allora ricordiamo quali sono i nostri risultati fondamentali con R di beta vi ricordo che ho indicato Y meno X beta trasposto Y e beta sono vettori anche se mi scordo di mettere il sottominato saranno comunque vettori per tutto il resto di questo corso Y meno X beta che lo potete anche scrivere lo possiamo anche scrivere sommatoria delle Y con I meno E di Y con I ok al quadrato e qui vi ricordo ancora quando E di Y con I è costante uguale a mi ottenete sommatore di Y con I meno mi al quadrato e quindi lo stimatore di beta è uguale a R di beta su n ok e quindi se per caso avete un problema a una sola a un solo non a un regresso diciamo la media delle Y è costante cioè è uguale a mi e il vostro stimatore è sommatore delle Y meno m al quadrato diviso n poi una si che n ci mette ne meno uno perché non sia una corretta eccetera bla 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 poi se ne discute e per il nostro beta cappelletto è quello che minimizza rispetto a beta minimizza R di R di beta tale che è minimo ora come lo minimizziamo R di beta la formula l'abbiamo già vista è che il nostro beta che cosa è uguale x trasposto x a meno 1 per x trasposto per y a questo punto è necessario che facciamo un piccolo sforzo mentale per ricordare quanto facciamo uno sforzo mentale di 5 minuti perché poi ci pigliamo un ricchissimo caffè e poi continuiamo un piccolo sforzo mentale per riagganciarci a quanto avevamo fatto sulla regressione lineare semplice vi faccio notare che qui x trasposto y corrisponde e si può dimostrare facilmente al termine codegianza che c'era al numeratore sarebbe se x è fatto da una sola colonna e sono scarti dalle proprie medie e anche y per comodità fosse scarti dalle proprie medie in effetti conviene pensare questo se sono tutti regressori numerici e quindi non indicatori di appartenenza a gruppi ma comunque se è una variabile quantitativa vera e propria la x ed è una sola e questo x scartato e y scartato al numeratore avete codegianza scartare le x sia la x che la y dalla propria media allora vedete è come dire che io ho portato il centro dei miei avevo una media che era in un certo punto e io porto l'origine degli assi lo porto sulla media delle x e delle y ovviamente se le x sono k lo faccio a k più 1 dimensioni è una comodità vorrà dire che l'iperpiano di regressione passa dal centro è una cosa che abbiamo già fatto nella regressione di un esempio l'abbiamo fatto solo per la x che cosa è il risultato che il termine noto era la media delle y questi dettagli poi li vediamo vedete guarda questo allora vi faccio notare anche mnemonicamente ripeto questa è una di quelle formule che uno deve sapere le deve sapere anche se non le applicherà mai perché voi mai e poi mai lo farete nemmeno con r se lo volete fare con r una volta tanto per vedere che ottenete lo stesso risultato che ottiene lui con l'istruzione lm bene ma uno non è che lo deve fare materialmente però lo deve sapere perché ci sono alcune conseguenze importantissime che ora vedremo e intanto vi ricordo il beta con 1 cos'era guardate cos'era sommatoria x y diviso somma x con i quadro ed è la stessa cosa perché se x fosse x scarti dalla media di una variabile questo x è risposto x e somma x quadro a meno 1 se è uno scalare va a denominatore non è uno scalare quindi è l'inverso va bene qui sostanzialmente se avete memorizzato questo allora con pochi con poca spesa avete poca spesa neuronica avete e avete memorizzato anche questo qui ovviamente il caso a più parametri ci darà modo di fare le cose che secondo me sono anche le più le più belle le più interessanti vedere capire come la distribuzione campionaria di beta dipende dalla struttura delle x noi già abbiamo visto nel caso univariato ve lo ricordate con l'esempietto che abbiamo visto abbiamo visto anche con i punti con le cose che se io cambio la disposizione delle x quindi le x sono più strette la varianza di beta aumenta se le x sono più larghe questo denominatore aumenta e quindi questo beta è più stabile ma perché è più stabile perché ha meno ha uno spazio più ampio su cui ruotare se deve ruotare su un perno stretto queste pendenze vi ricordate le simulazioni che abbiamo fatto camminano oscillano ovviamente di più allora si può dimostrare evidentemente se y ha una distribuzione normale ed è questa l'assunzione che noi abbiamo fatto partiamo direttamente dall'assunzione di normalità io non mi occuperò minimamente in questo precorso di cosa succede se valgono le altre assunzioni ma non vale quella di normalità noi l'assunzione di normalità ce la prendiamo e basta per brevità ma pure se non valesse la normalità questo stimatore non sarebbe uno stimatore di masserosimilianza perché se non ho l'assunzione di normalità non posso parlare di masserosimilianza ma sarebbe comunque fra tutti gli stimatori lineari non distorti nelle osservazioni quindi lineari in y e non distorti sarebbe l'ostinatore di minima varianza questo è il cosiddetto teorema di Gauss Markov punto e a capo torniamo a noi e di beta a che cosa uguale e ma niente è uguale a x trasposto x e operatore lineare pure in termini matriciali per e di y ok ma e di y che cos'è e x beta e di y e di y che cos'è x beta e quindi qua c'è x trasposto x ora vengono tutta una serie di passaggi che fatti in termini matriciali sono molto più semplici anche graficamente il valore atteso di y di valore atteso di y perdono ossia di y cos'è x beta e quindi qua questo lo raccolgo diversamente e quindi va a finire che x trasposto x a meno uno se ne va con x trasposto x perché la moltiplicazione matriciale è associativa comunque e quindi qua alla fine mi viene fuori beta vuol dire che lo stimatore dei minimi quadrati di beta è non distorto come preferiscono alcuni miei colleghi ma è un stimatore corretto fra l'altro il termine corretto appartiene proprio alla tradizione semantica italiana della terminologia statistica per motivi che io non conosco gli anglosassoni preferiscono dire un-barised o no la bottiglia questa è mezza piena o mezza volta andiamo alla varianza di alla matrice varianza e poi ci pigliamo una onestissima pausa ora devo cambiare pagina questa ha deciso che io non devo cambiare pagina in un modo complicatissimo ma guarda un po' che ok allora ma non l'ho capito perché perché lui si va a rimettere sempre ah perché si mette nel titolo beh boh ognuno allora torniamo a noi dobbiamo fare la varianza di o meglio ragazzi io molto spesso per abitudine siccome da molto che io faccio quasi sempre faccio docenza nei corsi di multivariato comunque di cose più parametri io dico magari la varianza ma ovviamente se l'argomento è un vettore aleatorio per varianza dovete intendere matrice di varianza e covarianza in ogni caso quando si dice varianza si intende il momento secondo è il momento secondo di un vettore aleatorio è la matrice di varianza e covarianza il momento secondo centrato ovviamente allora matrice di varianza e covarianza di b a che cosa è uguale a matrice di varianza e covarianza di x trasposto x a meno uno scusate perché l'ho fatto in un modo un poco diverso da come lo faccio normalmente ok vabbè ora per esplicitare questa cosa la matrice di varianza e covarianza di una combinazione lineare di variabili aleatorie è uguale a una forma quadratica in cui all'interno c'è la matrice di varianza e covarianza della variabile aleatoria e prima e dopo ci sono gli elementi quindi praticamente questo qui è che cosa uguale diciamo che la regola generale è che v di a y con y vettore aleatorio attenzione è uguale ad a v di y per a trasposto ok e allora essendo questa la regola generale la trovate per comodità sugli appunti che si chiamano matrici 2020 che si trovano nella mia pagina web di algebra matriciale ma in realtà è algebra matriciale ma è vettori aleatori anche là dentro c'è pure questa cosa qua addirittura ha dimostrato ma ero giovane quando facevo queste cose quindi le ho fatte una volta mai più allora cosa uguale questo però diciamo è la base che sarebbe il caso di avere come prontuario come x trasposto x a meno 1 per x trasposto per matrice di varianza e covarianza di y per x per per aspetta varianza ora questo ci devo mettere la trasposta di tutto questo per fare la trasposta di questo pezzo qui per trasporre un prodotto cosa devo fare devo trasporre i termini ma invertirli di ordine quindi devo andare ora da destra verso sinistra quindi x il trasposto x trasposto e x mentre scusa torniamo al rosso mentre x trasposto x a meno 1 è una matrice simmedia quindi resta come x trasposto x a meno 1 come potevamo sospettare adesso se ne va quasi tutto perché perché matrice e covarianza di y quanto è sigma quadro i la i è l'elemento neutro rispetto alla moltiplicazione i di n elementi la i la matrice identità è l'elemento neutro rispetto alla moltiplicazione quindi lo posso elevare sigma quadro è uno scalare quindi cammina a destra a sinistra dove voglio in un prodotto perché non non fa non sposta non è un elemento vettoriale per cui ci sarebbe da preoccuparsi delle dimensioni no scalare quindi è un fattore quindi qua questo è sigma quadro i ok essendo sigma quadro i io il sigma quadro lo porto fuori e mi cosa mi resta x trasposto x a meno 1 avete già capito dove andiamo a finire perché se ne andrà quasi tutto per fortuna perché se no sta teoria non avrebbe avuto il successo che ha avuto se rimanesse tutto questo caos allora questo qui e questo se ne vanno risultato finale che è secondo me la cosa più importante del metro le mie quadrate x trasposto x a meno 1 per sigma quadro cosa vuol dire vuol dire che la struttura di varianza e covarianza del x perché se x è una matrice di variabili scartate dalle proprie medie così come sommatoria degli x con i scarti al quadrato è una devianza e questa sarà una matrice di devianza e co-devianza cosa vuol dire quindi che la struttura di variabilità interna delle is mi condiziona il comportamento e la qualità dei miei stimatori perché se ci fossero degli stimatori con varianze alte vuol dire che io sto facendo un'inferenza brutta datemi due minuti di tempo che ovviamente due per modo di dire perché mi pido un meritatissimo caffè e fra poco ci rivediamo torniamo alla distribuzione campionale di beta beta che cosa sappiamo noi di beta ma beta cappelletti beta cappelletto perdono io in effetti nelle slide in realtà questo beta cappelletto è chiamato B perché è chiamato B voi sapete che per indicare gli stimatori esistono sostanzialmente due convenzioni intanto lettere greche per i parametri è sempre meglio utilizzarla quasi tutte le parametrizazioni che voi conoscete di curve note sono con lettere greche e quindi per indicare lo stimatore si indica la lettera greca col cappelletto e quello è un univoco ma c'è una tradizione italiana ma anche anglosastro diciamo non banale e elegante dal punto di vista proprio del simbolismo di fare corrispondere alla lettera greca la corrispondente lettera latina per indicare lo stimatore o il vettore di stimatore ma ci sono anche motivi più banali ossia all'inizio quando io ho iniziato a scrivere queste dispense e scrivere la beta cappelletto non usavo il sistema mi veniva complicato non solo mi veniva complicato ma si leggeva male perché su dispositivi con una scarsa risoluzione stampante non sempre questo beta cappelletto si distingueva da beta per cui per tagliare la testa al toro nelle mie dispense purtroppo beta cappelletto non c'è quasi mai ma c'è quasi sempre b b in bold per indicare che è vettore è rimasto così e quindi non lo so se lo cambio effettivamente si legge meglio per cui quando io dico b intendo beta cappelletto e viceversa ma dico in molti testi si trova anche b è classico quando si fa teorie indicarlo a un beta cappelletto perché il passaggio è da beta quello vero teorico incognito al beta cappelletto quello che stimi dai dati allora beta cappelletto a che cosa è uguale a x trasposto x a meno 1 per x trasposto y abbiamo visto il valore attesto che è beta abbiamo visto la varianza che è questa qui come si distribuisce è una combinazione linea di variabili normali e quindi si distribuisce secondo una normale multivariata che normale multivariata è è una normale multivariata ammesso che questo sia il simbolo normale multivariata si distribuisce perdon vabbè fa un po' schifo questo simbolo di distribuzione non è quello giusto però si distribuisce come una normale con k componenti ovviamente che beta k componenti perché vedete che questo è n per 1 ma tutto questo qui è k per n perché questo è k per n per n per k questa cosa qua è k per k e questo è k per n ok quindi il risultato è k per 1 di valore atteso beta e di matrice di varianza e covarianza e trasposto x a meno 1 per sintoma base ora due parole su questo x trasposto facciamo il caso cioè ma non ci si può credere che io premo qua ora devo fare tutto questo casino passare di qua pagina senza titolo nuovo e devo ma non si sa perché devo fare tre passaggi boh allora sono 11.25 e ci arriviamo a fare quello che dobbiamo fare allora andiamo ancora su questo beta su questo varianza di beta uguale x trasposto x a meno 1 persicola che è il risultato più interessante che abbiamo visto finora perché che lo stimatore fosse corretto fosse un distorto ma ce l'aspettavano poco allora vi ricordate c'era un'analogia nel caso univariato cosa può succedere di male può succedere di male che l'unica cosa che può succedere di male è che le x sono un po' troppo vicine e quindi questo beta balla molto l'effetto che abbiamo visto quindi se la varianza delle x è piccola la varianza dei beta sarà alta perché sta denominato e qualcosa del genere succede qua solo che solo che solo che c'è una latrice quindi non è che facciamo un poco di giochini qua allora intanto dobbiamo fare due ipotesi caso in cui caso in cui m le medie la media del x è uguale al vettore 0 con c'è io ottenuto 0 trasposto quindi le mie medie le mie x sono scartate dalle mie o dichiaro che sono già scartate dalle medie oppure uso un'altra variabile z ma certe volte nelle slide ho usato la convenzione di fare z uguale x meno la media per indicare questo scarto dalla media come avrò fatto avrò fatto vettore di 1 meno per m x che è un vettore colonna quindi questo viene n per k come dire che io alle x sostituisco delle colonne tutte uguali una media 1 una media 2 eccetera e la matrice se diciamo matrice di scarti ci capiamo però questo simbolismo con gli uni o i cosetti unoni come li chiamavo io da studente è utile a certe volte a questo punto questa matrice z trasposto z scusate non si sa perché non torno più in dire z trasposto z a che cosa è uguale sarebbe la cosiddetta matrice di devianza e co-devianza delle z o delle x perché è lo stesso co-devianza di z uguale a che cosa a n matrice di varianza e co-varianza delle z vedete che per le matrici di varianza e co-varianza delle variabili osservate che z è una variabile multipla osservata si usa lo stesso simbolismo che si usa per le matrici varianza e co-varianza dei vettori aleatori ma ovviamente il significato è leggermente diverso disgraziatamente mentre per i valori attesi esiste la differenza perché valore atteso per una variabile aleatoria ma è elettometrica per una variabile osservata per le varianze purtroppo non solo la lingua italiana ma tutte le lingue del mondo varianza sia per la per la variabile aleatoria che per la variabile statistica effettivamente osservare ora questo n matrice di varianza e co-varianza di z uguale a n matrice di varianza e co-varianza di x spesso la matrice di varianza e co-varianza di una variabile altra di sotto si indica con la s maiuscola non s quadro ma s maiuscola intendendo matrice di varianza e co-varianza è un simbolismo molto 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 usato quindi questa s o sigma di x solo che sigma di solito si riserva alle variabili aleatoria ma ce lo possiamo anche permettere qui s o sigma di x intendendo matrice di varianza e co-varianza del io preferisco in effetti usare usare s comunque ovvero possibile s con x bold in modo che si capisca che è una matrice comunque di varianza e co-varianza allora se io metto questa cosa qui che cosa va a finire sempre ripeto il caso in cui le x sono tutte quantitative è che io le sto scartando dalle proprie medie ok che cosa succede che la matrice di varianza e co-varianza dei b il termine noto l'ho levato perché se ho scartato anche le y sono dalla propria media il termine noto sostanzialmente non fa operazioni perché risulta risulta nullo ma se io non scartassi le y dalla media il termine noto sarebbe dato dalla media delle y e sarebbe non correlato con tutti questi lo potrei stimare separatamente così come ho fatto nella regressione di lineare semplici ok quindi qui io posso pensare che queste z sono soltanto i regressori nelle slide comunque che vi do nella dispensa che vi darò poi dopo non oggi c'è il caso generale in cui c'è anche il termine noto gli scarti e poi c'è una matrice a blocchi c'è il termine noto da una parte e poi questa matrice a me interessa questa matrice perché il termine noto non ci interessa allora ci serve stimarlo ma dico non varianza dei beta ma noi quello che interessa sono le pendenze di questa cosa varianza dei beta a che cosa uguale x trasposto x a meno 1 abbiamo detto che lo consideriamo uguale a z trasposto z e quindi uguale ad n per s di x a meno 1 quindi n per s x a meno 1 per sigma quadro ora n è uno scalare e lo porto fuori ok lo porto fuori e sigma quadro lo porto pure lo sposto un po' più a sinistra che mi viene meglio sigma quadro su n per s di x a meno 1 ora in questa forma che è la stessa che vi ho sostanzialmente è la stessa che abbiamo visto per la regressione lineare semplice come l'avevamo messa l'avevamo messo sigma quadro su n per 1 più per una serie di cose quello per il valore stimato questo vi fa vedere due cose mi fa vedere che questa varianza di beta la spezzo in due allora questo pezzo prima cosa questo è l'effetto campionario classico sigma quadro su n aumento l'ampiezza campionaria e questa varianza diminuisce diminuisce in ragione di 1 su n diminuire la varianza in ragione di 1 su n vuol dire che la dispersione degli stimatori diminuisce mediamente in ragione di 1 su radice di n ok ricordate sempre questo nell'inferenza dei casi irregolari quelli che stiamo trattando non solo la teoria normale ma diciamo tutto quello che si distribuisce in modo onesto e sistemato quello che avete appunto nella teoria nell'inferenza dei casi irregolari la dispersione degli stimatori è nell'ordine di 1 su radice di n vuol dire che per avere per esempio un intervallo di confidenza a parità di condizioni che sia due volte più piccolo dovete quadruplicare l'ampiezza del campione fermo restando tutto il resto ovviamente vedete anche che c'è funzione diretta della varianza della componente accidentale più variabili le mie osservazioni in verticale rispetto al valore vero maggiore variabilità dell'ostinatore questo è intuitivo ma c'è questa novità che non è più una novità avendo fatto la regressione lineare semplice l'altra volta c'è questa dipendenza diretta dall'inversa della matrice di varianza e covarianza e che conseguenze ci sono e beh ci sono le conseguenze non banali guardate ve ne faccio vedere subito lo faccio perché tanto il professore Chiodi sta cosa la fa sempre la chiesa sempre agli esami e quindi se la chiesa sempre agli esami è perché voglio che alla laurea magistrale questa cosa si sappia perché sembra una banalità vuol dire che la somma delle varianze dei miei e qua sapere l'algebra matriciale è fondamentale o si sa o si sa prima opzione si sa seconda si sa non ce ne sono altri non c'è il modo di studiare questi argomenti senza avere una solida conoscenza di algebra matriciale fra l'altro di algebra matriciale veramente serve davvero poco serve solo l'algebra lineare e serve la parte relativa dalle forme quadrati tutto quello che riguarda l'algebra tensoriale tutto quello che poi è di contorno e corollario all'equazione alle derivate parziali non serve quindi ci serve veramente poco sommatoria delle varianze dei beta a che cosa è uguale? a sigma quadro su n traccia della matrice SX a meno siamo d'accordo qui? ci siamo? pronto? pianeta Terra? ci siamo ci siamo io non sento praticamente nulla professore mi sente? ci siamo ok forse bastava alzare il volume del mio altoparlante ok ecco effettivamente alzando il volume del mio altoparlante le cose migliorano allora traccia della matrice inversa perfetto la traccia della matrice è la somma degli elementi sulla diagonale quindi in una matrice di varianza e covarianza è la somma della varianza e perché la somma delle varianze? perché è ovvio che un indice della qualità complessiva della mia inferenza qual è? se ho un parametro qual è? la varianza di quello stimatore se ne ho diversi al di là del fatto che siano correlati o meno io cosa vorrò? c'ho beta 1 e ci voglio costruire un intervallo attorno a beta 1 voglio che sia un intervallo stretto quindi che abbia una dispersione e una varianza bassa se ho un intervallo rispetto a beta 2 al di là del fatto che sia correlato o meno con beta 1 pure voglio un intervallo stretto quindi cosa vorrei? vorrei che queste varianze fossero piccole e allora mi prendo la traccia di questa matrice come indicatore complessivo della qualità della mia inferenza più piccola questa quantità meglio è perché però possiamo giungere a un risultato diciamo confrontabile con qualcosa con un punto di riferimento sarà poi opportuno precisare che magari le variabili X per fare questo tipo di ragionamento debbano essere standardizzate se le variabili X sono standardizzate ossia hanno varianza unitaria questa matrice di varianza e covarianza è anche la matrice di correlazione poi vediamo perché perché così la cosa è meno influenzata dalle variabili dai diversi dalle diverse unità di misura un conto è che beta sta lavorando in funzione alla settimana di gestazione quindi che ne so chili per settimana un conto è che sia centimetri per settimana ovviamente sono unità di misura diverse quindi non potrei confrontare varianze quando si fanno questi ragionamenti di somma delle varianze diciamo che è ragionevole che stiamo lavorando su unità standardizzate se no sommarle queste cose non ha senso però per ora continuiamo diciamo è ragionevole che s di x sia non solo la matrice di varianza e covarianza ma anche la matrice di correlazione proprio ma non tanto per le correlazioni in seta quanto perché in effetti io devo ragionare su variabili con la stessa unità di misura ora la traccia la traccia di una matrice a che cosa è uguale anche è uguale anche se la matrice come nel nostro caso sono matrice definite positive e se a meno 1 ovviamente esiste perché l'abbiamo supposto prima perché x trasposto x a meno 1 esisteva esisteva l'abbiamo per esistere vuol dire che le variabili non erano linearmente correlate una cosa devo aggiungere abbiamo supposto finora implicitamente ma lo scrivo qua bello grande n maggiore di k non l'avevo detto prima e vedete che non è scontato che n sia maggiore di k perché nella realtà di moderna ci sono delle situazioni fra l'altro frequentissimo tutto l'ambito genetico di cui ho avuto la fortuna di occuparmi qualche tempo fa grazie a qualche mio allievo in cui k è maggiore di n ossia avete qualche campione di dna e per ogni campione il numero di snips di informazione che ricavate è nell'ordine delle decine di migliaia delle centinaia di migliaia dei milioni quindi è facile avere qualche migliaio qualche decina di migliaia di casi e qualche milione magari di variabili ma non è argomento che trattiamo ma è argomento che tratterete in questo corso di laurea che non si dica che non si tratta la cosa volete anzi ovviamente lo fanno quelli che sono più preparati sull'argomento ossia i più giovani la base metodologica è sempre da queste parti comunque noi stiamo supponendo n maggiore di k e comunque rango di x uguale a k ok allora la traccia è uguale alla somma degli elementi sulla diagonale principale ma la traccia di una matrice è a che cosa uguale anche è uguale alla somma dei suoi autovalori giusto giusto è giusto vi rispondo io ovviamente i laureati statistica stanno zitti non perché non lo sanno ma perché io ho triturato il cervello con questa cosa quando hanno fatto statistica 3 statistica multivariare però è uno dei modi più veloci per vedere la qualità di questi stimoli anche perché ci dà una cosa che non è banale la traccia di e6 quindi che cosa vuol dire vuol dire che io questo posso scrivere anche uguale per somma degli autovalori di chi di sx a meno u ok per i che va da 1 a k ma domando agli studenti che non provengono di statistica che già li ho tormentati abbastanza sull'argomento a suo tempo gli autovalori di un'inversa a che cosa sono uguale rispetto alla matrice s originaria pubblico pubblico proveniente dalla matematica gli autovalori di un'inversa sono uguali agli inversi degli autovalori la vediamo subito questa proprietà così ci siamo guardati il pensiero sommatoria perché il modo più veloce per vedere almeno per me più veloce ci sono altri approcci non basati sugli autovalori ma basati proprio sugli inversi sugli elementi dell'inversa io preferisco gli autovalori perché è più razionale secondo me è più è più generale uno sull'andagoni dove i landagoni sono i landagoni di Sdx quindi cosa vuol dire che se c'ho qualche autovalore basso questo influisce negativamente sulla varianza degli estimatori che vuol dire come faccio ad avere autovalori bassi autovalori bassi vuol dire che io sono vicino a una situazione di collinearità esatta ossia sono vicino all'avere qualche regressore combinazione lineare esatto degli altri qual è il caso migliore ebbè il caso migliore fate conto adesso dovete far conto di avere una matrice di correlazione quindi una matrice in cui avete sulla diagonale principale tutti uno qual è il caso migliore il caso migliore è che i lambda con i quindi se avete una matrice di correlazione la somma dei lambda deve fare k ok se avete il vincolo che la somma faccia k quando è che la somma degli inversi è minima quando i lambda sono tutti uguali ad uno perché appena avete una piccola differenza questa cosa diverge aumenta cresce il caso migliore quindi qual è il minimo di questo quando si ha quando i lambda sono tutti uguali e quando è che lambda sono tutti uguali ad uno in una matrice di correlazione quando le variabili sono tutte non correlate corollare il modo migliore di fare inferenza nei modelli lineari è avere variabili osservate non correlate ora questo è il modo migliore nella realtà di tutti i giorni le variabili sono correlate ma se sono molto correlate ossia se qualche lambda i lambda piccoli sono molto piccoli ovviamente questo fa incrementare la cosa voi pensate una situazione con tre variabili in cui avete per esempio lambda 1 uguale 2,3 che fra l'altro è uno degli esempi che ho fatto non mi ricordo i numeri esatti non me lo chiedete 0,6 e lambda 3 uguale 0,1 ovviamente tali che la somma faccia 3 se vi fate la somma degli inversi di questi è una situazione di diversa diciamo correlazione fra fra le varie componenti di diversa diciamo valenza degli autovalori non diversissimi però comunque vedete che qua avreste uno su lambda uguale 10 qua 1 su 1,06 quindi la somma sarebbe più di 10 considerando che il minimo invece è 3 vuol dire che voi avreste una situazione in cui avete una somma totale delle varianze che è più di 3 volte quello che poteva essere con le stesse 3 variabili non correlate conseguenze pratiche dice vabbè io che ci posso fare no tu statistico ci puoi fare tu primo ci puoi fare perché se tu sei statistico sei quello che ha organizzato l'esperimento ha organizzato la rilevazione devi fare in modo che le x non siano correlate o lo siano poco se poi le x addirittura sono fattorializzate ossia per ogni osservazione metti che le x possono avere x con 1 5 modalità x con 2 3 modalità l'ideale è che tu esplori tutte e 15 le possibilità in modo che sei su un reticolo ma se questo non lo puoi fare anche perché questo non è che lo puoi fare se ne hai i 20 variabili non puoi fattorializzare su 20 non si può ma comunque devi fare in modo che le x siano non correlate o siano poco correlate perché se sono molto correlate tu hai poco a dire vabbè ma io uso un modello con 3 variabili perché l'avere 3 variabili ti sta disturbando ok è un argomento che per ora tengo un po' da parte però capita adesso capita sulle varianze vi volevo fare vedere immediatamente qual è una delle conseguenze dell'avere calcolato la matrice di varianza e covarianza del beta cappelletto qual è il corrispondente univariato l'unica possibilità del corrispondente univariato è che le x perché se avete una sola x c'è poco da discutere di autovalori autovettori ma il caso qual è che avete delle x molto molto vicine molto molto poco variabili se le vostre x sono molto poco variabili rispetto all'uso che dovete fare della relazione regressione ossia voi dovete usare la vostra relazione per stimare le dosi di un farmaco fra 0 e 10 ma come farmaco gli avete dato soltanto dosi fra 5,1 e 5,4 è chiaro che poi vi troverete in difficoltà di questo è inutile allora la statistica intanto può fare due cose se organizzare il piano di rilevazione e fare in maniera che le x non siano guardate se però si ritrova una situazione di rilevazione fatta o di dati osservazionali come capita nella maggior parte dei casi quando avete dati ufficiali dati che arrivano in streaming dati che arrivano senza una particolare diciamo predisposizione di un piano non sono state campionate delle unità ma vi trovate davanti quello che avete e allora lì però bisognerà fare in maniera eventualmente di ridurre il numero di variabili e lavorare su un insieme ridotto noi questo proveremo a farlo nell'ultima lezione se avrò il tempo di farlo però il motivo è questo il motivo è che avere molte variabili magari mi può condurre mettere una variabile in pratica che è molto correlata con le altre due non serve a niente perché non mi aumenterà la spiegazione di Y e mi darà fastidio sulla varianza ultima cosa l'argomento dei test ce lo teniamo per domani ma ce lo siamo già preparato con il rapporto delle verosimiglianze con la verosimiglianza profilo che abbiamo fatto adesso diciamo che la lezione di oggi onestamente è risultata molto su cosa dal punto di vista teorico poi domani facciamo un breve promemoria sulle cose fondamentali però è risultata su cosa perché a me piace vedere le cose in un'ottica unica quindi partire dalla verosimiglianza e andare a vedere le conseguenze e farvi vedere adesso di quali sono le conseguenze fondamentali del lavorare con un modello diciamo non non stringato con un modello anche abbondante dove ci sono correlazioni fra variabili la correlazione fra variabili porta questo danno che stiamo vedendo e la somma degli inversi degli autovalori della matrice di correlazione alle x è il modo migliore per vedere qual è la qualità dell'inferenza che verrà fuori intanto uno se lo fa questo calcolo con il software moderno che abbiamo calcolare i autovalori di una matrice di correlazione ci stiamo niente aspetta che io vado di nuovo a questa cosa qua andiamo a un'altra pagina avevamo lasciato un po' la parte prego è mezzogiorno meno 10 lo so bene ma in 3 minuti ce la faremo ok va bene perché avevamo trascurato noi sigma quadro cappelletto non solo le abbiamo trascurato ma le abbiamo fatto fare anche una figura un poco di pepe se mi si consente il termine con la verosimilienza profilo che sigma quadro cappelletto scomparve completamente e il nostro sigma quadro di beta che cosa è uguale è uguale a r di beta su n è uno stimatore corretto beh se beta è quello vero è corretto perché e di r beta e di r di beta è uguale a n sigma quadro perché ogni scarto ha come ogni scarto al quadrato ha come media sigma quadro sono indipendenti ma quando r di beta sigma quadro di beta cappelletto uguale r di beta cappelletto su n che succede? si scopre miracolo che il valore atteso di r di beta cappelletto è uguale a n meno k aspetta scusate questo è di r di r di beta si è di r di beta cappelletto uguale n di k per sigma quadro quindi cosa vuol dire che uno stimatore è corretto e non solo ma se le cose si distribuiscono come una normale non solo il valore atteso n meno k ma r di beta si distribuisce sotto l'ipotesi di normalità non me lo fate scrivere si distribuisce r di beta su sigma quadro questo fatto come un h quadro con n meno k gradi di libertà motivo per il quale uno stimatore corretto della varianza il nostro sigma quadro hs quadro o sigma quadro cappelletto come lo volete chiamare voi a che cosa uguale a r di beta k e letto diviso non n ma n meno k voi l'avete già visto nella normalità variata dovete dividere per n meno uno in generale dovete dividere per n meno k la dimostrazione del perché succede questo è onestamente molto bella e molto elegante da un punto di vista matematico e probabilistico ma va ben oltre gli scopi e nella dispensa in questa versione non la trovate nella dispensa trovate semplicemente la spiegazione del valore atteso per trovare il risultato questo bisogna fare ricorso a funzioni caratteristiche e una serie di altre diavolerie quindi diciamo che abbiamo risolto i nostri problemi fondamentali abbiamo stimato i parametri abbiamo stimato anche sigma quadro possiamo fare inferenza su sigma quadro domani vediamo come fare inferenza sugli elementi di beta ragazzi buon lavoro benvenuti a dopo domani con me arrivederci a dopo domani a dopo domani a dopo domani Grazie a tutti